Il colpo di coda dell'inverno dopo l'inizio della primavera, che ha visto un lungo periodo di alte temperature, sta mettendo a dura prova il risveglio della vegetazione che ora è più sensibile alle basse temperature. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ondata improvvisa di freddo che ha colpito nei giorni scorsi molte regioni italiane, tra queste anche le Marche. A livello nazionale il maltempo ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra cali di produzione e danni alle strutture e infrastrutture nelle campagne. Queste gelate a nevicata di ieri, le gelate notturne di 3-4 giorni che sta facendo anche sotto zero, soprattutto sul piante da frutto come ciliesi, albicocchi, peschi che erano decisamente avanti, ovviamente vedremo in futuro ma i danni saranno importanti perché non porteranno i frutti desiderati. Il rischio di questo drastico calo delle temperature, continua Di Sante, è di avere circa il 70% di produzione di frutta in meno. Stessa situazione per ortaggi e verdure, anche qui i rischi e i problemi sono tanti. Le verdure fresche si vede che vengono colpite subito, quindi ingialliscono, aggrinziscono e di conseguenza non sono più messe in commercio. Per quanto riguarda altre culture arbore come i vignetti e gli olivetti è chiaro che anche qui la situazione è abbastanza drammatica perché i vignetti hanno appena buttato fuori le piccole gemme e gli olivetti avendo avuto temperature alte le settimane scorse i rischi sono grossi perché di fatto è una pianta molto delicata e quindi rischia veramente di non portare il frutto finale. Ma non è solo il freddo addestare preoccupazione tra gli agricoltori locali e i singoli cittadini, c'è anche la siccità, infatti nei pozzi della nostra provincia sta scarseggiando sempre più l'acqua, bene prezioso, da preservare e conservare. Secondo una media, negli ultimi anni il mese di febbraio ha avuto un calo del 50% di piogge e quello di marzo del 75%. È chiaro che è una situazione drammatica, andiamo incontro a un clima di tropicalizzazione di conseguenza quando piove molto dobbiamo creare degli invasi, dei laghetti artificiali che possono trattenere l'acqua, l'acqua va sprecata di meno sicuramente anche sulle tubature comunali è un bene prezioso che dobbiamo comunque sia preservare. Dal punto di vista politico ci stiamo muovendo nei confronti della regione a livello nazionale per far sì che con i consorsi di bonifica gli agricoltori possono, visto questi cambiamenti climatici che diventano costanti, possono andare incontro a delle formule di assicurazioni. Con i consorsi di difesa si possono fare delle formule di assicurazioni, è chiaro che ci vogliono dei ristorni da parte della regione e da parte nazionale per una sorta di contributo che faciliti questa situazione e che faccia sì che gli agricoltori possono mantenere un reddito costante più garantito perché altrimenti ogni anno sono sotto queste vicende di tropicalizzazione, queste vicende climatiche e drammatiche e quindi con grandissimi problemi economici.